Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Gian Natasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete autostradale della Toscana. Sul raccordo Siena-Firenze per lavori di manutenzione, restringimento di carreggiata dal chilometro 47 al chilometro 50. Sulla statale 64 Porrettana, all'altezza della galleria del signorino, restringimento di carreggiata e senso unico alternato. Sulla regionale 429 Valdelsa per lavori di sicurezza, divieto di transito dal chilometro 12 al chilometro 17. La viabilità cittadina a Firenze in via Pisana per lavori alla rete idrica, divieto di transito nel tratto via Sant'Angelo via di Scandici. Buon versi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!